Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Quest'oggi volevo andare a spiegare il perché secondo me Scorbani di tipo fuocolotta non sarebbe la cosa peggiore che ci potrebbe accadere Ora io credo che tra meme, discussioni, insulti e varie cose di questo tipo Non ci sia stato un argomento di Pokémon Spada e Scudo che sia stato dibattuto come il futuro tipo di Scorbani E la stragrande maggioranza dei fan si è accanita sul fatto che questo Pokémon sembri apparentemente portare con sé il tipo fuocolotta Tipo che si ripeterebbe nella stessa combinazione un'ennesima volta per quanto concerne gli starter Ora vorrei discutere di questa situazione partendo da una premessa che coinvolge un altro Pokémon che guarda caso è probabilmente il Pokémon che più odio in assoluto Ossia Incineroar Al tempo del suo annuncio questo Pokémon mi mandò letteralmente in bestia perché Incineroar è palesemente un Pokémon di tipo fuocolotta Ma a cui è stato assegnato un tipo diverso, ossia il tipo buio Ora ricordo benissimo che ai tempi c'era questa discussione qua e anch'io avevo preso parte Ossia il fatto che Incineroar avesse il tipo buio perché rappresentava o comunque si ispirava a un lottatore malvagio Ma io ho sempre sostenuto e continuerò a sostenere che pur sempre di lottatore si parla Cioè il fatto che questo lottatore sia malvagio è ovviamente una cosa secondaria un po' come se a Corviknight venisse dato il tipo buio perché è un corvo Ma è chiaro che se è un corvo il fatto che sia un uccello prevale sul fatto che sia un uccello notturno e di conseguenza merita il tipo volante Nel caso di Corviknight poi abbiamo ovviamente anche il tipo acciaio che impedisce al Pokémon di avere un tipo buio ma ovviamente non è questo il punto Incineroar è un Pokémon di tipo lotta aveva necessità essendo starter di avere il tipo fuoco e il suo secondo tipo doveva essere il tipo lotta Il fatto che poi fosse un Pokémon dalla natura meschina poteva essere tranquillamente mostrato con delle mosse di tipo buio Non serviva dargli un tipo che lo snatura completamente Voglio dire che se avessero voluto fare un lottatore wrestler malvagio assegnargli per forza il tipo buio potevano farlo al di là degli starter Cioè non rendendo Incineroar uno starter rendendolo un altro Pokémon togliendogli le peculiarità del fuoco e assegnandogli il tipo lotta buio così sarebbe stato coerente Invece per quanto riguarda questo Pokémon si è voluto fare fanservice cioè i fans si lamentano del tipo fuoco lotta Benché noi abbiamo creato un tipo fuoco lotta andiamo a dargli il tipo buio così diamo il contentino alle persone e io temo fottutamente che Scorbani si becchi lo stesso destino Cioè io credo che Scorbani possa diventare un Pokémon in tutto per tutto associabile al tipo lotta Un Pokémon lottatore e nel trailer vediamo che tira pugni e usa doppio calcio quindi già abbiamo queste caratteristiche Ma che poi per questioni legate all'apprezzamento dei fan il tipo lotta non gli si è dato trovando un escamotage per dargli che ne so io un tipo elettro Ora io non so cosa passi per la testa di Game Freak non so se stiano facendo dei meme non so se ci stiano pigliando per il culo ma tant'è Voglio esprimere la mia su questa contrapposizione moltissimi si lamentano del tipo fuoco lotta in sé Cioè del fatto che un Pokémon non deve essere di tipo fuoco lotta ma possa comunque essere ispirato un lottatore Invece secondo me è una cosa che non ha senso Se voi andate da qualsiasi fan di Pokémon e gli chiedete qual è il problema del tipo fuoco lotta nel mondo Pokémon Ti diranno e il problema è che gli starter di questo tipo denunciano una mancanza di idee essendo che il tipo si ripete continuamente nel corso delle generazioni Ma questa mancanza di idee non si riversa forse nell'estetica e quindi nel design? Cioè il problema alla fine non è il tipo fuoco lotta in sé chi se ne frega chi se ne frega se di tipo fuoco lotta Il problema è che in teoria dal tipo fuoco lotta dovrebbe derivare il design di un Pokémon associabile al tipo lotta E dunque un design che alla lunga diventa ripetitivo e non originale per quanto riguarda uno starter di un determinato tipo Quello che voglio dire è che fare un Pokémon lottatore e poi cambiargli il tipo non risolve il problema Perché il problema rimane lo stesso ed è l'originalità Anzi facendo così sembra quasi che ci prende in giro Cioè non solo non creano Pokémon originali da questo punto di vista Ma si vergognano pure e cercano di nasconderlo sviando l'attenzione su un'altra caratteristica del Pokémon Ma i Sineron resta un lottatore anche se di tipo buio Come i lottatori sono Blaziken, come i lottatori sono Inferni, come i lottatori sono gli Embor E sempre il solito discorso non cambia niente che poi a Scorbani gli si dia il tipo Eletro Se questo resta un lottatore nell'aspetto il problema persiste Per questo io dico che per Scorbani l'alternativa migliore sarebbe beccarsi il tipo lotta e concluderla lì Perché almeno sarebbe coerente con se stesso Non sarebbe originale, lo odierei comunque, ma sarebbe coerente con se stesso e non suonerebbe come una presa in giro Io ricordo che ai tempi di Sineron moltissimi furono strafelici del fatto che questo Pokémon avesse il tipo buio e non il tipo lotta Io l'ho vissuta come una presa in giro Se devi fare un tipo lotta, fai un tipo lotta, dagli il tipo lotta Sarebbe meglio non lo facessi ancora una volta negli starter di tipo fuoco Sarebbe bello vedere uno starter più originale da quel punto di vista Ma se proprio non ci riesci, se proprio devi fare il Pokémon di tipo lotta, daglielo sto tipo lotta Perché già di prendere uno starter che sia poco originale non ho molta voglia Poi dopo se questa mancanza di originalità me la devi mascherare dandogli 350 tipi diversi Allora capisci che la mia voglia crolla ancora di più Alla fine se Scorbani fosse un Pokémon di tipo fuoco lotta ma con un design originale per quello che è il suo tipo Allora mi andrebbe bene così Per farvi un esempio il mio Pokémon di tipo lotta preferito è Mien Shao Che è probabilmente il Pokémon anti tipo lotta ma è anche perfetto per questo tipo E secondo me è un design spettacolare Se Scorbani dovesse raggiungere questi livelli di originalità pur rimanendo nel tipo lotta Va benissimo, va benissimo Chi se ne frega se c'ha il tipo lotta L'importante è che non sembri di nuovo un tipo lotta E soprattutto che non sia un tipo lotta mascherato con un altro tipo Perché parliamoci chiaramente senza dover per forza recepire le parole come un insulto al vostro Pokémon preferito Insineror non è un Pokémon originale Insineror è un Pokémon banale Al quale si è tentato di conferire una parvenza di originalità dandogli il tipo buio Ma Insineror resta un lotatore Il problema continua ad esserci E anzi secondo me con Insineror si è palesato alla sua ennesima potenza Chiaramente stiamo parlando di possibilità In questo video non sto assolutamente dicendo che Scorbani possa avere lo stesso destino di Insineror Staremo a vedere ma la situazione in questo momento mi preoccupa Perché mi ricorda terribilmente quella che c'era con Litten E anzi forse è ancora più clamorosa perché già di Scorbani vediamo palesemente la sua propensione al tipo lotta Invece di Litten non si poteva ancora sapere Per quanto mi riguarda la soluzione migliore sarebbe allontanare completamente il tipo fuoco dal concept del Pokémon di tipo lotta Ma non perché si odi il tipo lotta insieme Ma perché semplicemente il design associato a questo tipo sta diventando ripetitivo Ed è ripetitivo se si pensa che lo starter all'interno di un gioco Pokémon è una scelta particolarmente forzata E magari un giocatore che apprezza moltissimo il tipo fuoco Deve costantemente sorbirsi un Pokémon simile a quello precedente pur di utilizzare il suo tipo preferito Insomma è una scelta poco felice Soprattutto se comparata invece agli altri starter di tipo acqua e erba che abbiamo Che sono tutti particolarmente originali vedasi desiduai Ma al di là di queste ipotesi che con Scorbani sembra costantemente cadere nell'oblio La mia speranza a questo punto è che di Scorbani si faccia veramente un tipo lotta Ma un tipo lotta fatto bene Non un tipo lotta poco originale e mascherato come originale con un altro tipo Questo sarebbe a mio avviso l'insulto più grande per questo Pokémon E sarebbe davvero un peccato se alla fine dovessimo avere la beffa di avere un Pokémon originale nell'aspetto Ma di un tipo che lo snatura completamente E se alla fine Scorbani dovesse risultare un Pokémon rovinato Io credo che un po' di colpa ce la dobbiamo addossare Perché siamo stati per anni a rompere le balle Io compreso sul tipo lotta in sé Senza capire che effettivamente il problema non è il tipo lotta ma l'originalità del Pokémon E l'originalità del Pokémon non si misura con il suo tipo E credo, credo detto molto terra a terra Che con Insineroar noi tutti ci siamo fatti inculare nella maniera più incredibile possibile E spero che ciò non riaccada in ottava generazione Detto ciò ragazzi, fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate di questa situazione Io ricordo ai tempi di Insineroar di aver causato un casino nei commenti Spero a sto giro che la cosa sia molto più chiara E spero che a sto giro ci siano opinioni più critiche di quelle che ricevetti tempo fa Io comunque vi invito a lasciare un mi piace a prescindere se il video vi è piaciuto in sé Un'iscrizione se non siete ancora iscritti e volete rimanere aggiornati sui video che pubblico Mi raccomando inoltre passate dai social per rimanere sempre aggiornati In questo caso sull'attività al di fuori del canale Vi premete la campanella per ricevere invece ogni giorno i feed Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!